Grazie a tutti A Lodi e al Miron, tridente confermato con Barrientos, Bergessio e Gomez Quindi Maran non cambia, continua sulla via delle 4-3-3 Invece il Napoli di Mazzarri, il classico 3-5-2 con De Santis in porta Possiamo vedere anche la grafica Ci arriviamo perché il Napoli tra l'altro ha fatto giocare il Napoli 2 Chiamiamolo così, in Europa League con Edu Vargas che ha segnato tre gol alla EK di Somme E' una partita facile, anche se il Sonna rappresenta un livello tecnico pari alla Serie C in Italia Però hanno giocato con le riserve, ciò significa che puntano tutto sul campionato E la formazione titolare giocherà a Catania 3-4-1-2 che in realtà è il 3-5-2, De Santis in porta Campagnaro, Cannavale e Oronica saranno i tre centrali difensivi A centrocampo Maggio e Zuniga sulle fasce Zemaili, Hiller e Amsic dietro le punte Che saranno Pandev e Cavani con Insigne e soprattutto Edu Vargas pronti a entrare a partita in corso Sì